Il momento storico per la Juventus, il momento storico per tutto il calcio femminile, perché questa è la prima gara ufficiale della Juventus Women. E' appena nata questa formazione biancolera, siamo sullo stadio Giovanni Soffietti di pienezza, questo è il primo turno della Coppa Italia 2017-2018. E' come detto, questa è la prima gara ufficiale della Juventus allenata da Rita Guarino. Si parte allora, buon divertimento con Torino Calcio Femminile contro Juventus Women. Alza la destra da fuori, bucata questa, con la posa di Juventus. Ando ora con il destro da lontano, la rete di Martina Rosucci, il primo marcatore ufficiale della storia della Juventus. E' Martina Rosucci, una delle giocatrici più importanti di questa formazione, al secondo minuto nel corso della primo tempo, a Juventus e avanti con il racconto. Il racconto è molto interessante per la corte di Bonanzea, Bonanzea va verso la porta, Bonanzea avanti a portiere, Bonanzea! Il racconto della Juventus, Barbara Bonanzea, settimo minuto nel corso del primo tempo. Dopo sette tiri del mondo, la Juventus è già avanti i due reti. Il primo ruolo di Martins, insieme a lei, se di fermo a Rozzan. La magiana del Leone, Bernier, Parker, Natalesi e Alfonso, e altre due giocatrici. Parata Sodini! 3-0 per la Juventus! Simona Sodini! Sodini, per la ricorsa! Sodini! 4-0 per la Juventus! Il racconto di rigore vincente al 34esimo minuto di Simona Sodini! Siamo con di testa Sodini! 5-0! Ma che azione è questa? si ripartano ora, un divertimento anche con la ripresa, un rettimento, scotifo di Marino Ima in cossa, la possibilità di perla Ima in cossa, la risposta di Ritutoria Contra, la Rituratore destro, la Rituratore su quinta di Aurora Galli, 6 a 0, che colla, il recupero di Anconi Raffoli, il valore dentro, attenzione ancora a quest'idea, il dribbling, la Rituratore, creditazione ancora a quest'idea qui, ancora la Juventus, un attraversario in mezzo, i gol di Aurora Galli, doppietta anche per lei 9 a 0 per la Juventus ora sia 10 a 0 ancora Iona non riesce a toccare l'attenzione per Caruso che gol di Arianna Caruso ora sia l'attenzione con l'esterno e poi ce la rete il gol di Spagna Devoto proprio sottoporta ora ha segnato Valentina Puglisi perché l'ha Devoto proprio lì accanto trovando le cose del gol cari della Juventus che mi chiede con la seconda serie di social media e cari 13 a 0 con la ricolla di Arianna Caruso attenzione Botti la partita è dentro la sfera la chiusura può ripartire Torino con il Lombardo finisce qui la partita la prima storica cana della Juventus Women sul capo del Torino e lo sarà Giovanni Soffetti in Pianenza che è vinta dalla squadra bianconera per 13 a 0 con la squadra bianconera e lo sarà Giovanni Soffetti